Buongiorno, mi auguro ovviamente che il Celsaie possa svolgersi il prima possibile nelle condizioni migliori, ma tutti siamo chiamati a cambiare per effetto dell'epidemia dura che stiamo attraversando. Il Celsaie è un appuntamento molto importante per l'Italia, è una di quelle fiere internazionali da cui l'Italia parla al mondo e che presidiano settori in cui l'Italia è molto forte. Come ha conquistato questo posto di primo piano? In realtà anche quando sono campi molto diversi, quasi sempre si vede un incrocio fra tecnologia, innovazione, design, capacità di produrre, direbbe Cipolla, cose belle all'ombra dei campanili. Simbola si è occupata più volte nel settore della ceramica, per esempio nel rapporto Green Italy, perché questo è uno dei settori in cui anche al di là di politiche ambientali, l'innovazione per rispondere alla domanda di Italia che c'era nel mondo ha incrociato in maniera molto forte l'ambiente, riduzione dei consumi energetici, riduzione e quasi azzeramento nei nuovi impianti dei consumi di acqua, recupero dei materiali e poi un grande investimento anche sull'innovazione tecnologico, sulla bellezza, perché l'Italia è sostenibile anche perché scommette sulla bellezza. Tutto questo è il retroterra della forza del Made in Italy, è il retroterra anche della nostra risposta alla crisi, sia alla crisi dell'epidemia, sia alla crisi climatica, alla necessità, come dice il Manifesto di Assisi, un'iniziativa che è stata promossa dalla fondazione Simbola assieme al Sacro Convento di Assisi, ma in realtà che ha un comitato promotore dei firmatari che attraversano un po' tutta l'economia, la società, la cultura, la tecnologia, che si pone l'obiettivo di puntare sull'economia a misura d'uomo, che non lascia indietro nessuno, che non lascia solo nessuno, per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Anche per questo, questi appuntamenti come Cersaie, soprattutto se letti in questa chiave, ci parlano non solo della difesa, e non è poco, di un settore produttivo importante, ma si parlano di un'idea d'Italia ambiziosa, di un'idea di Europa ambiziosa, perché l'Italia è forte se fa l'Italia e se incrocia le sfide che dobbiamo affrontare con la qualità, l'innovazione, la bellezza, la coesione sociale, l'abbiamo visto anche in questa crisi. Quindi possiamo difendere effettivamente una storia, ma anche un futuro e spero di vedere questa storia, ma soprattutto questo futuro presto a Cersaie.